Nasce dall'esigenza di far passare, far trascorrere un Natale felice a tutti quei bambini che per un motivo o per un altro, vivendo in situazioni di disagio, potrebbero rischiare di trascorrere la festa più bella dell'anno in un clima di tristezza. Un'iniziativa solidale per regalare un sorriso nel giorno di Natale ai bambini in difficoltà. Ad Arezzo torna anche quest'anno l'iniziativa della Croce Rossa, un sorriso in dono. La contentezza di quando strappano la carta e trovano un gioco che era impensabile magari fino a quel momento per loro poter ricevere. Una sorta di regalo sospeso prendendo spunto dalla tradizione napoletana. I piccoli gesti cambiano le giornate dei bambini, cambiano le giornate degli adulti, cambiano le giornate di tutti. I piccoli gesti, uno sopra l'altro, contribuiscono a fare grandi cose. Dal 18 novembre sarà così possibile acquistare doni in collaborazione con Bobini Giocattoli. Noi abbiamo una lista divisa in fasce d'età maschio e femmina e quindi a scelta il genitore o l'amico può regalare in base all'età quello che vuole. I doni saranno consegnati prima della vigilia di Natale dai volontari della Croce Rossa e dal loro babbo Natale a bambini e ragazzi delle famiglie seguite per difficoltà economico-sociali. Seguiamo oltre 140 famiglie che sono pari a più di 300 persone. Di queste 300 persone, 70 hanno un'età compresa tra i 0 e i 18 anni. Si aggiungono le difficoltà perché c'è sempre il confronto con il compagno di banco che magari ha quell'oggetto che il minore non può avere e quindi diventa più difficile per i genitori affrontare situazioni particolari. Quest'anno poi la solidarietà aumenta. La Croce Rossa destinerà infatti parte dei regali raccolti all'associazione All Star Arezzo Ollus. Soprattutto i ragazzi che vivono nell'istituto a volte perdono anche per motivi anagrafici la rete familiare. Quindi il periodo delle vacanze natalizie è un periodo non sempre diciamo così sereno perché non fanno rientrare a casa perché magari appunto non ricevono il regalo o la visita di babbo Natale che fa sempre piacere a qualsiasi età. E quindi ecco il fatto di averci coinvolto in questa campagna speriamo di ha invece quella serenità che ci vuole nel periodo delle feste natalizie.